Buongiorno a tutti, argomento del webinar di oggi sono i Bonus Cap Certificate. Trattasi di uno strumento derivato ottenuto dalla combinazione di azioni e opzioni e che consente all'investitore retail di approcciare il mercato borsistico o qualsiasi asset class in cui questo strumento può essere costruito in un modo differente. Infatti le caratteristiche del Bonus Cap sono tali per cui si viene a creare una asimmetria potenziale al verificarsi determinate condizioni tra il guadagno potenziale e la perdita potenziale. Innanzitutto quello che c'è da dire del Bonus Cap è che nel momento in cui l'investitore lo compra rinuncia ad una performance potenziale per poter avere un guadagno con maggiore sicurezza rispetto al guadagno e alla performance potenziale che potrebbe avere nel momento in cui andasse lungo comprasse l'attività sottostante. Facciamo subito un esempio. Ipotizziamo che il Futsimib sia a 19.600 punti. L'investitore potrebbe decidere di comprare un ETF sul Futsimib che lo esporrebbe alla direzionalità pura del mercato. Il suo profitto e la sua perdita si muoverebbe lungo questa retta e quindi questa sarebbe l'area di profitto e questa sarebbe l'area di perdita rispetto ad un prezzo iniziale di 19.600. In questo caso quindi c'è una completa simmetria tra la perdita potenziale e il guadagno potenziale. Nel caso in cui invece un investitore acquistasse un Bonus Cap Certificate andrebbe a comprare un Bonus Cap Certificate emesso per esempio con uno strike price a 19.600. Quindi in questo momento. Se venisse emesso in questo momento la struttura tipica del Bonus Cap Certificate è quella di offrire uno strumento ad un prezzo a sconto rispetto al valore di 100 o comunque sia ad un prezzo e poi prevederne un premio per il rimborso. A seconda della scadenza e della volatilità implicita dello strumento su cui il certificato è costruito il prezzo di emissione cambia. Mano a mano che la scadenza aumenta aumenta il rendimento potenziale e quindi lo sconto rispetto al valore di rimborso e questo sconto è anche direttamente proporzionale alla volatilità del titolo sottostante dello strumento sottostante. Quindi se acquistiamo un certificato sul Fuzzimib il prezzo di emissione sarà anche e soprattutto funzione della volatilità. Quindi bisogna acquistarlo è più conveniente acquistarlo quando il mercato è molto volatile. Non è conveniente acquistarlo quando il mercato è poco volatile. Quindi ipotizziamo che questo strumento venga emesso a 80 e venga restituito a 100 dopo 3 anni dopo 3 anni ad una condizione che il prezzo del titolo sottostante non rompa mai una barriera. In questo caso la barriera è stata fissata a 17.000 Quindi che cosa vuol dire? Che se nel corso dei tre anni il sottostante non rompa mai oppure a scadenza si trovi sopra i 17.000 allora il certificato verrebbe rimborsato a 100 Viceversa nel caso in cui ci fosse una rottura della barriera in continuo cioè nel corso della vita del certificato oppure il certificato si trovi in una situazione in cui il suo sottostante a scadenza sia sotto 17.000 in quel caso il profitto e la perdita della detenzione di un certificato bonus cap è simile a quello che avrebbe avuto l'investitore avendo acquistato un ETF. Quindi il guadagno potenziale che può ottenere l'investitore acquistando il certificato è dato dalla differenza tra 80 e 100. questo guadagno è un guadagno superiore al 20% in tre anni ed è dato appunto dal fatto che l'investitore rinuncia a questa parte di profitto qua pur di avere una maggiore probabilità di guadagno perché ovviamente se tra tre anni il mercato dovesse essere solamente a 20.000 il suo guadagno sarebbe molto a molto superiore rispetto a avere una posizione lunga sul sottostante i certificati possono essere di tipo bonus cap possono essere con barriera continua o con barriera discreta con barriera continua vuol dire che è importante che il sottostante non rompa mai il livello di barriera nel momento in cui questo livello venisse rotto il profitto e la perdita della posizione sul certificato è simile a quella di una posizione lunga sul sottostante senza che vengano percepiti i dividendi su quel sottostante se invece la barriera è discreta è sufficiente per avere il rimborso di 100 è sufficiente che alla scadenza il sottostante sia maggiore di 17.000 e quindi anche se nel corso della vita del certificato il sottostante dovesse rompere 17.000 questo 100 sarebbe assicurato è chiaro quindi che da questa differenza tra il bonus cap con barriera continua e il bonus cap con barriera discreta emerge che il bonus cap con barriera discreta presenta un rischio meno elevato proprio perché ci sono maggiori probabilità di avere il rimborso visto che anche se si stocca una volta due o infinite volte 17.000 non succede niente ma l'importante è che il sottostante sia sopra 17.000 a scadenza a fronte di questo il prezzo con cui vengono emessi i certificati con barriera discreta è più alto rispetto a quelli con cui vengono emessi i certificati a barriera continua proprio per rappresentare questo minor rischio detto in parole diverse il premio che viene offerto con i certificati a barriera discreta è più basso rispetto al premio che viene offerto con i certificati a barriera continua questo prezzo di emissione come dicevo prima è un prezzo che dipende dalla volatilità del certificato e del sottostante e quindi ovviamente tanto più il sottostante ha un'elevata volatilità tanto più questo prezzo di emissione sarà basso o il premio sarà elevato quindi se io acquisto un certificato con sottostante il Fuzzimib avrò un premio di un certo tipo se acquisto un certificato con sottostante il titolo Montepaschi mi devo aspettare un premio molto ma molto ma molto maggiore proprio perché la volatilità del Montepaschi è molto ma molto maggiore rispetto alla volatilità dell'indice quindi di questo devo tener conto nel prossimo seminario andremo ad analizzare come utilizzare questi certificati quali sono i vantaggi ed eventualmente anche delle strategie di combinazione di questi certificati con altri strumenti per poter costruire dei portafogli con dei profili di rischio interessanti sfruttando appunto la simmetria in termini di rischio che possono offrire i certificati bonus cap per sentire